In tutti i film ambientati nella Seconda Guerra Mondiale si vede qualche aereo gettarsi in picchiata contro il suo bersaglio. Ma perché lo facevano? I bombardamenti aerei iniziarono già nella Prima Guerra Mondiale, ma gli aerei erano ancora troppo fragili per le manovre che vediamo nei film. Le cose però cambiarono nella Seconda Guerra Mondiale. I piloti infatti non disponevano ancora di bombe guidate, missili o quelle moderne tecnologie. Però gli aerei erano già più performanti di prima e il dive bombing, cioè il bombardamento a tuffo o in picchiata, divenne il modo più efficace per guidare una bomba verso il bersaglio. Si avvicinavano il più possibile con il proprio aereo, sganciavano la bomba all'ultimo e terminavano la manovra con una cabrata per togliersi velocemente prima di essere abbattuti. E questa spettacolare tecnica può sembrare molto pericolosa, ma in realtà era la più sicura che avevano, visto che avvicinandosi a grande velocità erano minori le possibilità di essere colpiti dall'artiglieria nemica. Seguimi per altre curiosità sull'aviazione.